ma che più giusto sarebbe chiamare un processo di espropriazione della politica che è avvenuta, che viene chiamata antipolitica perché essere espropriati dalla politica genera naturalmente un distacco, una separazione dalla politica e io credo che ci sia stata in questi anni un'espropriazione della politica, cosa voglio dire? La politica, la democrazia è politicizzazione della gente soprattutto, se non c'è la politicizzazione della gente non c'è alcun controllo su ciò che fanno i governanti in realtà la democrazia, se volessimo dire che cosa è la democrazia ridotta in una frase potremmo dire che è quando si riduce al minimo la distanza tra i governanti e i governanti vale a dire se i governanti vengono messi in condizioni di conoscere, di sapere e di partecipare e dunque di controllare, di socializzare tutte le scelte che fanno lo Stato, questa è la democrazia non è la concessione di una serie di diritti e di garanzie di libertà, queste anche sono naturalmente molto importanti, ma la democrazia è soprattutto uno spazio di partecipazione di libertà, grazie a tutti